Chiara Ferragni Chiara Ferragni incinta di 5 mesi, papà bacia il pancino Fedez e Chiara Ferragni arrivano a 5.243.418 visualizzazioni. Sono loro la coppia più social del momento, Fedez e Chiara Ferragni che attendono la nascita del figlio. Chiara Ferragni dunque sarebbe al quinto mese di gravidanza e la gioia per il lieto evento ha conquistato tutti. Dopo lannuncio social, Chiara Ferragni ha confermato i gossip che circolavano ormai da mesi. Dopo migliaia di gossip sulla presunta gravidanza di Chiara, ecco finalmente le immagini ufficiali postate sul profilo della diretta interessata che mostra una lieve curvatura, simbolo del piccolo che sta crescendo. La conferma e la gioia di fan e gossip, Chiara Ferragni è incinta di 5 mesi. . Dalle foto è evidente la gioia di Fedez e Chiara Ferragni. . Abbiamo voluto aspettare ancora un po' a dirvelo, sia per prudenza, sia per scaramanzia scrive Fedez su Instagram ma visto che ci hanno anticipato ci sembrava inutile attendere ulteriormente. . 5 mesi fa proprio qui a New York è iniziato tutto. . Io e la mamma ti aspettiamo anche la futura mamma nello stesso momento dal suo profilo dalla notizia e suoi fan con un messaggio in inglese, Where gonna be parents home, in 5 months pregnant 9 in vacant white tume e baby raviolo. In entrambi i messaggi i due posano in una foto in accappatoio abbracciati e sorridenti. . Da questo momento via libera le storie di Instagram con le immagini delle prime ecografie. . Papà Fedez parla al figlio. . . La mamma Chiara pubblica un video in cui Fedez parla e canta al bambino, commentando così, thank you every one for the wishes for this new chapter. . This year has been the most magical you ever experienced. . . . . . . . . I fan sono felici per la notizia della coppia che non mancherà di postare foto e storie del figlio. Grazie per la visione!